capitano il mozzo è molto preoccupato e molto agitato per la quarantena che ci hanno imposto al porto volete parlarci voi cosa vi turba ragazzo non avete abbastanza cibo non dormite abbastanza non è questo capitano non sopporto di non poter scendere a terra di non poter abbracciare i miei cari e se vi facessero scendere foste contagioso sopportereste la colpa di infettare qualcuno che non può reggere la malattia non me lo perdonerei mai anche se per me l'hanno inventata questa peste può darsi ma se così non fosse ho capito quel che volete dire ma mi sento privato della libertà capitano mi hanno privato di qualcosa e voi privatevi di ancor più cose ragazzo vi prendete in giro affatto se vi fate privare di qualcosa senza rispondere adeguatamente avete perso quindi secondo voi se mi tolgono qualcosa per vincere devo togliermene altre da solo certo io lo feci nella quarantena di sette anni fa e di cosa vi privaste dovevo attendere più di venti giorni sulla nave erano mesi che aspettavo di far porto e di godermi un po di primavera a terra ci fu un'epidemia a portapril ci vietarono di scendere i primi giorni furono duri mi sentivo come voi poi iniziai a rispondere a in posizioni non usando la logica sapevo che dopo ventuno giorni di un comportamento si crea un'abitudine e invece di lamentarmi e crearne di terribili iniziai a comportarmi in modo diverso da tutti gli altri prima iniziai a riflettere su chi di privazioni ne ha molte e per tutti i giorni della sua miserabile vita per entrare nella giusta ottica poi mi adoperai per vincere cominciai con il cibo mi imposi di mangiare la metà di quanto mangiassi normalmente poi iniziai a selezionare dei cibi più facilmente digeribili che non sovraccaricassero il mio corpo passai a nutrirmi di cibi che per tradizione contribuivano a far stare l'uomo in salute il passo successivo fu di unire a questo una depurazione di malsani pensieri di averne sempre di più elevati e nobili mi imposi di leggere almeno una pagina al giorno di un libro su un argomento che non conoscevo mi imposi di fare esercizi fisici sul ponte all'alba un vecchio indiano mi aveva detto anni prima che il corpo si potenzia trattenendo il respiro mi imposi di fare delle profonde respirazioni ogni mattina credo che i miei polmoni non abbiano mai raggiunto una tale forza la sera era l'ora delle preghiere l'ora di ringraziare una qualche entità che tutto regola per non avermi dato il destino di avere privazioni serie per tutta la mia vita sempre l'indiano mi consigliò anni prima di prendere l'abitudine di immaginare della luce entrarmi dentro e rendermi più forte poteva funzionare anche per quei cari che mi erano lontani e così anche questa pratica fece la comparsa in ogni giorno che passai sulla nave invece di pensare a tutto ciò che non potevo fare pensai a ciò che avrei fatto una volta sceso vedevo le scene ogni giorno le vivevo intensamente e mi godevo l'attesa tutto ciò che si può avere subito non è mai interessante l'attesa serve a sublimare il desiderio a renderlo più potente mi ero privato di cibi succulenti di tante bottiglie di rum di bestemme ed impregazioni da elencare davanti al resto dell'equivaggio mi ero privato di giocare a carte di dormire molto di ozziare di pensare solo a ciò di cui mi stavano privando come andò a finire capitano acquisì tutte quelle abitudini nuove ragazzo mi fecero scendere dopo molto più tempo del previsto mi privarono anche della primavera o dunque sì quell'anno mi privarono della primavera e di tante altre cose ma io ero fiorito ugualmente mi ero portato la primavera dentro e nessuno avrebbe potuto rubarmela più